Lutto cittadino a Catanzaro per l'ultimo saluto a Maria Pansini, la capotreno deceduta nell'incidente ferroviario. Nella chiesa di Santa Teresa del Gesù di località Giovino, l'ultimo saluto a Maria Pansini, la capotreno deceduta nell'incidente ferroviario di Corigliano Rossano. Per oggi, giornate delle eseque, il sindaco Nicola Fiorita, a nome dell'amministrazione comunale, ha proclamato il lutto cittadino. Il comune capoluogo intende così manifestare il cordoglio della città, nonché la più sincera vicinanza e partecipazione al profondo dolore che ha colpito i familiari della signora Pansini e in particolare la figlia Valeria Misano. Centinaia di cittadini hanno partecipato ai funerali, raccolti in preghiera per l'ultimo saluto alla 61enne. Un pensiero durante la funzione, anche per la giovane autista del camion coinvolto nello scontro col treno, deceduto a soli 24 anni.